Questa non è un'improvvisazione, come del resto è noto a molti, perché noi abbiamo coltivato negli ultimi anni questo raccordo tra il mondo universitario e il mondo delle professioni, con quel ciclo che è professione 6, ma anche proprio con l'imprenditoria direttamente, quindi con le imprese. Io penso a che sviluppo abbia avuto il tirocinio negli ultimi anni, che è già una prova di inserimento dell'attività accademica in raccordo con le imprese. Oggi inauguriamo lo sportello per l'autoimprenditorialità, quindi per favorire la nascita di start-up, esperienza che non si improvvisa, ma che deve basarsi su un lavoro precedente significativo, faremo anche corsi di formazione e di pre-incubazione. In questo senso il raccordo che abbiamo creato in questi anni con gli istituti medi superiori sarà di grande importanza, perché lo studente degli istituti superiori potrà già trovare nella formazione specifica un trampolino, un ponte di passaggio all'attività che poi, completata con gli studi più specializzati e di livello universitario, potrebbero consentirgli questo ingresso in un mercato del lavoro che, voglio ricordare, si sta sempre più evolvendo in questa direzione.